Dobbiamo necessariamente caricarci di questa responsabilità da docenti professionisti della didattica, cioè siamo i soli intellettuali detendori di una professione che riguarda la comunicazione didattica, la costruzione didattica delle conoscenze, eccetera. Non possiamo dotarci a questo e questo deve entrare, il mondo digitale deve entrare nell'agenda di noi docenti. Grazie.